Oggi l'intera comunità di Calcinelli è sotto shock. Patrick Ceccomarini, 23 anni, ha perso la vita questa mattina attorno alle 10.40 dopo un volo di 12 metri che non gli ha lasciato scampo dal terzo piano della palazzina in via Gobetti dove viveva con tutta la sua famiglia. Il 118 arrivato subito sul luogo della Sciagura ha anche attivato l'elissocorso che però è stato fatto rientrare dato che era stato già constatato il decesso del 23enne. Sulla volontarietà del gesto non ci sono dubbi, le modalità ed il biglietto scritto di suo pugno ritrovato dai carabinieri non lasciano spazio a nessun'altra ipotesi. Da approfondire invece le motivazioni che hanno spinto Patrick ad un gesto così estremo. Oggi per lui e la sua famiglia era un giorno particolare, infatti negli istanti poco prima della tragedia Patrick e i suoi genitori assieme agli amici più stretti, anch'essi presenti in casa, si stavano preparando ad andare all'università di Urbino per la sua tesi di laurea. Descritto da tutti come un ragazzo mite, a modo e gentile, forse un po' schivo alle volte ma legatissimo ai genitori per i quali era sempre disponibile. Una tragedia che ha lasciato tutti coloro che lo conoscevano nell'incredulità e nello sgomento. Mai infatti fino ad ora un cenno, uno stato d'animo che potessero far intuire un malessere tale da giustificare l'accaduto. Ora è su questo aspetto, appurate le modalità e che i carabinieri di Colli al Metauro, arrivati sul posto oltre alla polizia locale, coordinati dal comandante Antonello Pannaccio, stanno cercando di fare chiarezza. Sono stati sequestrati alcuni oggetti personali della vittima che ora saranno analizzati dagli esperti, oltre alle dovute verifiche fatte verso l'università, per fare chiarezza sugli aspetti e le cause che hanno determinato questa tragedia familiare.